La Corte Europea di Strasburgo ordina al Ghetti di restituire all'Italia l'atleta di Lisippo. Massimo Seri annuncia, scriverò al Ministro della Cultura, finalmente è stata fatta giustizia. Santemesse, Rosari e Processione, a Tre Ponti di Fano torna la festa della Madonna della Colonna. Fano si tinge di rosa, la rete di Fano Outdoor organizza 20 giorni di iniziative aspettando il Giro d'Italia. Numeri utili per segnalare gli animali in difficoltà, Emanuela Giovannelli racconta l'attività dell'Ufficio Ecologia Urbana del Comune di Fano, dando alcuni consigli sui nostri amici a quattro zampe. La cosa più importante è l'emozione per la rubrica Arte e Cultura, l'intervista al fanese Giorgio Falcioni, ex comandante navale, con la passione per la fotografia che ama immortalare il mare. Una nuova disciplina olimpica dedicata al canottaggio. Il 4 e 5 maggio a Lito di Fano arriva la seconda tappa del trofeo Filippi di Bridge Sprint. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai nostri titoli. La Corte Europea di Strasburgo ha stabilito che l'Italia ha il diritto di riavere l'atleta vittorioso di Lisippo. La Corte, respingendo il ricorso presentato dalla Fondazione Polghetti per la violazione della protezione della proprietà, ha emesso una sentenza che riconosce i diritti dello Stato italiano sull'opera. Una statua in bronzo attribuita allo scultore Lisippo, rinvenuta nel 1964 da un peschereccio di Fano nelle acque del Mar Adriatico. Le autorità italiane, ricorda la Corte, hanno agito allo scopo di recuperare un patrimonio culturale esportato illegalmente. La Corte menziona anche la negligenza o la malafede del Ghetti, che ha acquistato la statua nel 1977 per 4 milioni di dollari, pur essendo a conoscenza delle pretese dello Stato italiano e dei suoi sforzi per recuperarla. Pertanto il provvedimento di confisca è proporzionato allo scopo di garantire la restituzione di un oggetto che fa parte del patrimonio culturale italiano. Mi sono personalmente occupato di questo contenzioso, ha dichiarato oggi il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano. Vorrei esprimere la mia gioia per la sentenza. Proseguiremo con rinnovata determinazione la nostra azione per riaverla presto in Italia. E sulla sentenza è intervenuto anche il candidato alle elezioni europee, Massimo Seri, che ha dichiarato Dopo anni di battaglia è stato riconosciuto il nostro diritto a riavere la statua. Finalmente è stata fatta giustizia e sono stati premiati gli sforzi a difesa di un simbolo del nostro patrimonio culturale. In questi anni non abbiamo mai smesso di tenere alta l'attenzione, lavorando per trovare un epilogo positivo a questa battaglia legale che ha caratterizzato gli ultimi decenni. Il bronzo di Lisippo ha stretto confano un legame storico e affettivo del tutto particolare, unico. Nelle prossime ore invierò una lettera al Ministro, ha detto Seri. È più che mai importante che anche il Ministro della Cultura del nostro governo accompagni il percorso di ratifica della sentenza da parte delle autorità degli USA per far sì che il bronzo rientri in Italia, sua sede più consone e naturale a svolgere il suo ruolo di patrimonio artistico per l'umanità. E ci sarà anche Massimo Seri al confronto pubblico che si terrà a fanno con il leader di azione candidato alle elezioni europee Carlo Calenda. L'appuntamento è per sabato pomeriggio in Piazza Miani. Stiamo entrando nel vivo della campagna delle elezioni europee per rinnovare l'unico organismo dell'Unione Europea eletto direttamente ai cittadini. Un appuntamento importante in un momento particolarmente delicato dove l'Europa dovrà sempre più svolgere un ruolo importante. Per questo sabato pomeriggio alle ore 18 in Piazza Miani ci sarà un incontro con il segretario nazionale di azione Carlo Calenda che verrà e incontrerà i cittadini per entrare nel merito dei programmi, del ricco programma che come azione abbiamo proposto, che proponiamo perché noi vogliamo un'Europa seria che svolga un ruolo forte, incisivo, veramente dove noi possiamo essere protagonisti. Adesso vi facciamo vedere un video che ci ha inviato un nostro reporter di strada che ha filmato una persona con felpa e cappuccio mentre strappava i manifesti elettorali nel parcheggio del cimitero centrale di Fano. E' successo questa mattina, ci ha scritto il telespettatore, che ha aggiunto oltre che essere un gesto antidemocratico è un illecito che prevede una sanzione. Sto valutando se sporgere denuncia, visto che nel video completo si vede chiaramente il soggetto. La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, è intervenuta oggi sulla situazione sanitaria, definita disastrosa nella provincia di Pesero Rubino. In soli 16 mesi, ha fermato, l'Ast ha visto l'avvicendamento di due commissari straordinari e la richiesta di pensionamento anticipato a solo un anno dalla nomina della direttrice generale Nadia Storti, a cui hanno fatto seguito le dimissioni del direttore facente funzione, Edoardo Berselli. Purtroppo, ha proseguito Ruggeri, l'emorragia del personale non è terminata qui. E' notizia di ieri che ad andarsene ci saranno anche sei anestesisti. Di questi, quattro hanno scelto di lavorare in altre strutture pubbliche, uno solo nel privato e un altro ha raggiunto l'età pensionistica. La conseguenza di questa fuga va ad aggravare una situazione fuori controllo di questa azienda. Dal primo giugno, infatti, saranno scoperti ben 180 turni al mese nelle strutture di Pesero e Fano. Una situazione che preoccupa gli operatori, ma soprattutto i cittadini. Le persone, ha aggiunto la coordinatrice, non hanno bisogno di altri proclami. Faremo, stanzieremo e assumeremo. Vogliono un servizio sanitario pubblico che funzioni, che garantisca la salute a tutti, come previsto dalla Costituzione. La Regione in questi anni ha dato prova di manifesta incapacità organizzativa e questa è la conseguenza, proprio ieri, per via dello scandalo delle liste d'attesa chiuse. Ha concluso Ruggeri, siamo finiti su Rete4 nella trasmissione fuori dal coro con un servizio che è cominciato proprio dall'ospedale di Fano. Chissà se il sindaco e l'assessore Sara Cucchiarini saranno nuovamente preoccupati per le immagini che potranno circolare o, al contrario, prenderanno coscienza del problema una volta per tutte. Così la coalizione di centrodestra per Fano all'indomani dell'ennesimo episodio di violenza ha verificato sincentro storico. Mercoledì 1 maggio, verso le ore 15, due bande di stranieri si sono scontrate a suon di pugni. Qualcuno ha visto persino un bastone utilizzato durante la rissa. Nonostante il grande lavoro delle forze dell'ordine, ha aggiunto la coalizione, queste bande continuano a minacciare la sicurezza della città. Proprio la sicurezza è al centro del nostro programma di governo che presenteremo sabato al Politeama. Possiamo già anticipare che tra i vari punti c'è sicuramente quello di assumere nuovi vigili e di dotarli di strumenti necessari per presidiare il territorio. Numeri e di mail per salvare gli animali. Il rapporto tra uomo e animale, consigli e raccomandazioni. Di questo ed altro abbiamo parlato con la dottoressa Emanuela Giovannelli, responsabile dell'Ufficio Ecologia Urbana del Comune di Fano, che è stata intervistata da Stefania Schiaroli. L'Ufficio Ecologia Urbana del Comune di Fano si occupa del corretto rapporto tra uomo e animale e del benessere animale, attraverso la gestione del canile, del gattile, dell'oasi felina e della collaborazione con le associazioni di volontariato, con le guardie zoofile, in particolare con OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ed EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, e con i singoli cittadini che si dedicano volontariamente a questo aspetto del civismo. Perché l'Ufficio possa intervenire per aiutare gli animali in difficoltà sono molto importanti anche le segnalazioni. In caso di avvistamenti, di maltrattamenti o malgestione di animali, contattare tramite email questi indirizzi di posta elettronica. Per il pronto intervento, in caso di urgenze, chiamare la centrale operativa di polizia locale oppure il numero verde. Di che cosa si occupa il vostro Ufficio? Dunque, il nostro Ufficio, che si chiama Ecologia Urbana, si occupa prevalentemente del buon modo di convivere tra gli animali e gli esseri umani. È composto da tre persone. Sono delle persone straordinarie, perché per lavorare in questo ufficio sicuramente ci vuole, a parte la competenza, ma anche molto cuore, contestualmente razionalità e tanta pazienza. Ogni specie di animale ha le sue caratteristiche, e quindi ha un modo di comunicare, ha delle esigenze che sono diverse dalle nostre. Diciamo l'esempio del lupo, per esempio. Quando il lupo si avvicina, la colpa è dell'uomo. Certo, tutti gli animali selvatici che si avvicinano lo fanno perché hanno un motivo, o più di uno in questo caso. Quali sono questi motivi? Innanzitutto il loro ambiente naturale, che a loro piacerebbe molto di più indubbiamente, che è invaso dall'uomo, invaso sia con le strade, con i campi coltivati, con la caccia, e anche, come abbiamo visto purtroppo, anche con il turismo. Alcune volte questo impatta poi con la tranquillità degli animali selvatici. Quindi gli animali selvatici vengono in contatto con l'uomo, non perché vogliano, ma perché ci si trovano, perché cercano qualcosa. Questo qualcosa è cibo, è mancanza di predatori per le prede, cioè una situazione che non è quella naturale. Parlando di cane, il cane è un animale sociale. E visto soprattutto che adesso ci avviciniamo all'estate, diamo dei consigli utili per l'estate. Dunque, sì, il cane è un animale che vuole stare in compagnia, in che senso? Che è un animale che sta in branco. Quindi i cani lasciati soli nei recinti, specialmente se lontani dalle abitazioni, o comunque fuori dalle abitazioni dove c'è il resto del branco, soffrono molto. Si pensa che un cane quando ha da mangiare e da bere, ma, tutto sommato, stia a posto. Non è vero, perché per il cane in particolare, la compagnia del suo branco è come l'acqua, è come il cibo. Per l'estate chiaramente le cose si complicano un po'. Per l'inverno c'è il freddo, ma per l'estate, specialmente con i cambiamenti climatici, dobbiamo fare un po' più di attenzione, soprattutto appunto a chi non li tiene in casa. Quindi più acqua, farli passeggiare nelle ore più fresche, attenzione a non farli camminare sull'asfalto, in posti dove le zampette si potrebbero bruciare. E una cosa in particolare, vorrei dire, coloro che portano gli animali con i velocipedi, non solo è vietato dal codice della strada, avere ovvi motivi di sicurezza, ma il cane, e non è detto che il cane debba per forza essere stanco, e quindi sia quello che va tutelato, ovviamente anche quello è prima di tutto quello, ma il cane che viene portato in passeggiata, ha bisogno di fare le sue esperienze in passeggiata. Il cane non utilizza tanto lo sguardo, quanto lo ha fatto, deve avere il tempo quindi di passeggiare e di fermarsi dove si vuole fermare. Cioè non è la sgambatura tanto per farlo correre, e comunque, se proprio dovete farlo correre, ci sono gli sgambatoi. Lanciamo un appello finché tutti i comuni istituiscano un ufficio per tutelare gli animali. È fondamentale il corretto rapporto tra gli uomini e gli animali, perché gli animali, come sapete, si stanno avvicinando molto di più, con loro abbiamo un rapporto molto diverso da quello che c'era un tempo, è proprio una trasformazione sociale, per cui è assolutamente fondamentale che ci siano delle persone dedicate negli uffici comunali, ma anche magari intercomunali, cioè possono anche mettersi insieme i comuni e avere degli uffici che si occupano di queste tematiche, che ripeto, sono a metà strada tra l'etologia, l'ecologia e anche il sociale. Dopo le segnalazioni sulle infiltrazioni d'acqua alla scuola Filippo Montesi di Sant'Orso, al Movimento 5 Stelle di Fano sono state segnalate altre situazioni simili, alla vecchia scuola Torricelli di Sant'Orso e alla scuola di Bellocchi, oltre a problemi legati alle recinzioni alle scuole, Manfrini e Gentile al Porto. Per il Movimento 5 Stelle hanno dichiarato in caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative sarà prioritario mettere in sicurezza le varie scuole comunali ed evitare che si ripetano queste situazioni. Vanno benissimo i nuovi edifici scolastici, ma ci impegniamo a sanare da subito le situazioni esistenti con serietà, programmazione e intervento continuo. Paolo Costantini, già presidente dell'Associazione Pesarese Albergatori, è stato nominato presidente provinciale di Federalberghi. Costantini succede a Luciano Cecchini di Fano, recentemente eletto vicepresidente regionale di Federalberghi. La nomina di Costantini è stata concordata dai vertici delle associazioni degli albergatori aderenti come Angelo Serra di Gabicemare, Luciano Cecchini di Fano e Fabrizio Marcucci Pinoli di Urbino. Cambiamo argomento, domenica 5 maggio a Tre Ponti di Fano torna la solenne festa della Madonna della Colonna. Il programma prevede la celebrazione delle sante messe alle ore 7.30, alle 9, alle 11.15 e alle ore 17. Quella delle 11.15 sarà presieduta dal vescovo Andrea Andreozzi nel parco Fabio Guccioni, dietro al santuario. Si proseguirà con il pranzo al sacco. In caso di maltempo, la santa messa sarà celebrata all'interno del santuario e il pranzo verrà annullato. Alle 16.15 poi verrà recitato il santo rosario. La santa messa delle ore 17 sarà animata dal coro giubilate di San Lorenzo in campo. Seguirà la processione con l'immagine della Madonna della Colonna. Inoltre sarà allestita una pesca di beneficenza e in preparazione alla festa, questa sera alle ore 21, sarà recitato il rosario con la possibilità di confessarsi. Domani invece alle 20.45 è in programma la fiaccolata notturna a cura dell'azione cattolica dalla chiesa di Sant'Orso al santuario di Tre Ponti. Infine sabato 4 maggio alle 21 verrà recitato il santo rosario. Aspettando il Giro d'Italia che passerà a Fanno il prossimo 16 maggio la rete di Fano Outdoor promossa dal Comune ha organizzato un ricco calendario di eventi che si svolgeranno dal 4 al 26 maggio 20 giorni di iniziative che coniugano sport e turismo. Massimo Fughetti Il Giro d'Italia che fa tappa a Fanno crea una grande aspettativa ma per quella data che è appunto il 16 maggio ci sono tante altre iniziative collaterali che creano ancora di più una tensione per questa grande manifestazione. Giacomo Grandicelli che cosa si aspetta? Allora noi come Proloco chiaramente abbiamo deciso di sposare questo evento che si chiama Aspettando il Giro dove abbiamo praticamente cercato di coinvolgere tutta una serie di associazioni culturali e sportive le associazioni di categoria e la cosa che sicuramente ci ha fatto ancora maggiore piacere è il coinvolgimento dei quartieri perché abbiamo avuto anche molti quartieri che si sono appunto legati a questo evento dove ognuno di loro ha praticamente deciso di fare determinate manifestazioni durante le due settimane prima del Giro ma anche andando oltre. Praticamente gli eventi incominceranno il 4 di maggio fino ad arrivare addirittura al 26 perché il tutto è legato anche a uno dei cluster chiaramente di Fano che è Fano Outdoor dove praticamente sono collegate anche degli eventi non propriamente sposati col Giro però che comunque lo anticipano e lo posticipano rendendo la città ancora più attiva per quanto riguarda la bellezza di quasi tre settimane quindi è una cosa sicuramente molto bella perché abbiamo deciso di fare una maglietta celebrativa dove lasciare come ricordo ma soprattutto per dare un simbolo a tutti i partecipanti che svolgeranno tutta una serie di attività poi tutta una serie di attività valorizzeremo molto il Pincio sia prima che durante il giorno del Giro tanto che abbiamo allestito una pista di pump track più altre attività che partiranno o arriveranno direttamente al Pincio verrà animata comunque anche tutta la città e anche come ho detto prima anche i vari quartieri ma soprattutto il Clou arriveremo al giorno 16 che sarà il giorno più importante dove c'è la tappa vera e propria l'arrivo della tappa che arriverà indicativamente a zona Pincio dove l'ente organizzatore che è l'RCS chiaramente diciamo farà un po' tutto suo per quello che riguarda la zona Pincio però sarà diciamo un villaggio chiamiamolo così dove tutti quanti avranno la possibilità di poter venire e vedere il Giro in maniera molto molto singolare perché insomma la tappa arriverà proprio qui a fa che è una cosa particolare un'altra informazione non poco d'acconto in primis un'ordinanza che verrà fatta per quanto riguarda il giorno del Giro dove tutte le scuole di ordine grado verranno chiuse per la città e per le periferie della città ma soprattutto verrà poi pubblicato successivamente tutto quello che riguarda la viabilità a titolo informativo nei libricini dove rilasciamo il programma troverete anche il percorso del Giro queste cose le troverete sui vari siti internet del Comune di Fano le troverete sui social e siti internet della Proloco e Destinazione Fano le troverete nei vari punti recettivi della città ma soprattutto per quello che riguarda anche gli IAT e gli uffici informazioni della città sabato 4 maggio alle ore 17 la Darsena Borghese verrà inaugurata alla mostra dal titolo la marineria tra le vie di Fano e la toponomassica fanese molti vie di Fano infatti sono intitolate a tipici oggetti per la pesca e a navigatori ammiragli marinai e pescatori scomparsi in mare partendo dai loro nomi la mostra li ricorda con biografie foto ritagli di vecchi giornali oggetti in esposizione inoltre vengono ricordati i naufragi gli incidenti in mare e le vittime che fin dall'inizio del Novecento hanno portato lutti in città la mostra organizzata dal gruppo di Fano dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia in collaborazione con l'Associazione Ridosso sarà aperta al pubblico dal 4 al 12 maggio dalle 17 alle ore 20 e l'ingresso è libero con Cristiana Guerra abbiamo incontrato il fanese Giorgio Falcioni comandante navale ora in pensione con una grande passione fotografare il mare oggi siamo al mare in compagnia di Giorgio Falcioni Giorgio è un ex comandante di mare un appassionato di fotografia soprattutto ama fotografare il mare come nasce la passione per la fotografia? allora la passione non nasce spontanea la devi coltivare nel senso che tanto qualche fotografia l'abbiamo fatta tutti da piccoli da grandi poi quando hai tempo di fotografare è lì che nasce la passione le prime foto le fai così come vengono vengono vedi il bello vedi il brutto poi pian piano ti compri una reflex e con la reflex nasce la passione io sono autodidatta in tutto è lì che nasce il coinvolgimento tuo che coinvolge la passione l'anima l'amore per il mare per il sole per le almi per i tramonti infatti lei dice dove gli altri vedono l'ordinario un fotografo vede lo straordinario sì io lo vedo il fotografo cammina sempre con la testa per aria perché proprio le cose non le cerca ma le vede io ho notato fra l'altro una cosa che lei quando pubblica le sue foto su facebook e le descrive lei usa la lettera maiuscola per ogni simbolo tipo natura tipo arcobaleno tutto è quella lettera maiuscola tutto quello che concerne la natura è una forma di rispetto che io verso la natura penso di manifestarla così è una cosa da poco però è così mi viene spontaneo di farlo e lo faccio anche ecco diciamo la natura bisogna rispettarla fra l'altro tutti amano il mare ma pochi lo conoscono a fondo infatti non a caso lei ha un ricordo che si porta nel cuore sin da piccolo proprio lo conosco profondamente il mare perché ci sono stato dentro per tanti anni l'8 di giugno è stata una data storica una data fantastica per quel che concerne il tempo cattivo che ha fatto Fano che così non l'ha più fatto oppure se l'ha fatto a terra non ha fatto quei danni lì ero un ragazzino io che sono nato qui a Lido erano le 7 e mezzo di sera o più o meno anche un po' prima passeggiavo e si scurisce il cielo ma proprio si scurisce e già proprio in sangue ti si raggela allora ero in bicicletta dietro casa lascio la bicicletta perché cadevano i rami da tutte le parti l'acqua del porto già cominciava a trascimare dalla banchina tempo di 10 minuti è entrata dentro casa prendo mia madre nelle braccia perché si era rotta una spalla io ero piccolissimo e la porto a casa di mio nonno 50 metri di dietro che è più alta e l'acqua non ci arrivava quella notte ha fatto il finimondo è morto un sacco di gente le barche erano tutte a terra quelle grandi e quelle piccole erano di mare mio padre era imbarcato in una barca media che si chiamava Torrero non abbiamo avuto notizie il mattino dico a mia madre vado a vedere se mio padre è tornato e qui già era pieno di gente vado in cima al molo mi metto lì a sedere sulla bitta così ma senza avere coscienza di quello che fai perché a quell'età non c'è coscienza allora passa gente mi dice cosa fai qui e dico tanto ci conosciamo tutti quel porto aspetto mio padre ma tuo padre ormai non è tornato fino adesso dopo un po' mi alzo e vado a casa sono in fondo al molo mi giro perché ogni tanto mi giravo vedo un fumo mi metto a correre senza sapere chi era arrivo in cima al molo era la barca di mio padre se mi distrutta e quando entra dal fanale verde vedo mio padre che mi saluta gli era caduta l'ancora sul petto e aveva schiacciato il petto sono andato di là l'avevo già portato all'ospedale c'è una foto che si ricorda di aver scattato in un momento particolare della sua vita? allora tutte le foto lasciano un ricordo non ho un buon rapporto con i ricordi me li lascio alle spalle quindi le amo tutte proprio e c'è una foto di questa di questa luna con i gabbiani di quella signora che mi ha mandato questa foto dicendo che la figlia amava le mie foto questa foto sarebbe piaciuta alla figlia che adesso non c'era più la fotografia diventa poesia se c'è l'emozione se hai il coinvolgimento è l'emozione la cosa più importante è l'emozione l'emozione viene se hai la passione e rimaniamo in zona mare perché a Lido di Fano questo fine settimana è in programma la seconda tappa del trofeo Filippi di Beach Sprint la nuova disciplina olimpica dedicata al canottaggio Sabato e domenica 4 e 5 maggio 2024 abbiamo l'onore di ospitare a Fano la seconda tappa del trofeo Filippi di Coastal Rowing Beach Sprint è una nuova disciplina che si affaccia anche all'interno delle Olimpiadi perché da ottobre 2023 il CIO ha nominato nuova disciplina olimpica e sarà presente dall'Ost Angeles 2028 da disciplina di nicchia sta diventando una disciplina di grandissimo interesse tra gli atleti perché stanno tutti cercando di lottare per strappare il passo olimpico la tappa che faremo a Fano non dà il passo olimpico però permette di ben figurare gli atleti che vi parteciperanno e la risposta è stata notevole perché abbiamo ben 28 equipaggi che vengono dall'estero abbiamo nazionale svedese nazionale croata abbiamo tre rappresentanti dell'Egitto austriaci vice campionessa del mondo austriaca della disciplina e tanti e tanti altri titolati tra cui il vice campione del mondo che è italiano per cui siamo molto contenti che sia messa in risalto Fano e l'attività sportiva di Fano soprattutto quella legata al mare che il club nautico persegue dalla sua fondazione ma anche prima ed è soprattutto un ritorno per Fano della disciplina del canottaggio nel senso più lato disciplina che si è persa tra le due guerre dal 53 dalla rifondazione del club nautico non era stata seguita e nel 2019 l'abbiamo reintrodotta a Fano la disciplina del beach sprint è una disciplina molto dinamica perché prevede un tratto iniziale di corsa in spiaggia per poi salire sulle barche e percorrere un 250 metri remando a slalom tra le boe si rientra si vira di 180 gradi e si rientra a terra e di nuovo si ricorre per arrivare all'arrivo quindi occorre organizzare tutta la gara in base alle variabili che sono il mare il vento la marea e le onde e questo la rende molto dinamica il Lido si presta particolarmente per poter osservare guardare essere spettatori di questa disciplina perché ha il molo di Ponente e il molo dell'Arzilla che fanno da palcoscenico naturale quindi invitiamo la cittadinanza a partecipare e venirci a vedere da sabato più o meno alle ore 8.39 l'inizio delle qualificazioni fino a domenica intorno alle 15.16 che sono le ultime finali aspettiamo la cittadinanza per venire a vedere la nuova disciplina olimpica del Coastal Rolling Beach Spring Tra poco trasmetteremo un approfondimento in studio con Davide Del Vecchio candidato al Consiglio Comunale di Fano con Fratelli d'Italia seguirà uno speciale dedicato alla cerimonia di consegna delle borse di studio riservate ai soci della BCC del Metauro io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia vi ricordo il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni 338 4968 250 Buona serata su Fano TV Grazie a tutti